ciao zio la nostra agronoma e a pieni voti bella la nuova vigna migliora ogni giorno come il nostro san crispino eccoli lisa bentornata tra noi la nostra uva sai ora qui siamo più di 5.000 viticoltori più una passo è tutto tuo alla nostra dottoressa e a san crispino san crispino da noi per voi